Un evento che rappresenta l'annuale incontro per gli operatori della sanità pubblica veterinaria italiana concepito come momento di scambio di dati e condivisione di risultati di progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute, con particolare attenzione a quelle concluse nell'anno 2015. Un appuntamento annuale che noi abbiamo per, in un certo senso, giustificare con i nostri sponsor, in questo caso il Ministero della Salute, tutte le attività che noi facciamo, e i risultati che abbiamo ottenuto grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute. E come ogni anno è una giornata importante, una giornata dove vorrei che l'Istituto avesse visibilità per le attività che fa, per i risultati che ottiene. Affrontiamo diversi settori, diverse aree che vanno dal benessere animale, dal settore riduzione e sperimentazione animale, dall'igiene degli alimenti, il problema della listeriosi, che è un problema attuale, fino alla vaccinazione, a produrre, a sviluppo vaccini, nei confronti di malattie che attualmente non sono presenti in Europa né in Italia, che però sono presenti in territori confinanti, come per esempio la peste dei piccoli ruminanti, che chiaramente l'Istituto, nel suo ruolo di Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, ha il dovere di controllare ed eventualmente sviluppare presidi, in questo caso immunitari vaccinali, per poter poi eventualmente, in un possibile ingresso di queste malattie all'interno del territorio nazionale e europeo, avere la possibilità di poterle affrontare mediante questi presidi messi a punto e sviluppati grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute.